Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi sono molto contento di presentarvi la seconda edizione del Festival delle Città del Medioevo, in programma all'Aquila da giovedì 4 a domenica 7 luglio, con la curatela scientifica dell'archeologo Alfonso Forgione e dello storico Amedeo Fegnello, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite, al quale io lascio subito la parola, come mia abitudine, perché ci parli di questa seconda edizione dal titolo molto bello, La città, le città e l'acqua. Quindi, caro Amedeo, a te la parola. Maurizio, innanzitutto grazie dell'invito e dell'opportunità che mi data di presentare la seconda edizione del Festival delle Città del Medioevo. Il 25 l'abbiamo presentato ufficialmente con il sindaco Pierluigi Biondi e con il rettore Doardo Alesse. Il programma si preannuncia molto ricco, con un obiettivo simile a quello di tante manifestazioni che ormai si fanno in Italia. La peculiarità del nostro Festival è quella di dare centralità alle città, che è chiaramente un tema che si può declinare in maniera infinita, secondo le tipologie più variegate, molteplici. Diciamo che, mentre nella prima edizione abbiamo sottolineato il tema della rinascita. L'Aquila è una città che sta rinascendo e dopo il terremoto del 2009 i problemi sono stati enormi, ma per chi viene a visitare la città oggi può trascorrere un tempo bellissimo all'interno di un centro storico largamente recuperato, che ha delle bellezze e veramente pregevoli. Quindi il tema era stato proprio quello della rinascita, le rinascite. Attraverso la metafora della rinascita si voleva raccontare non solo l'Aquila, ma anche il periodo che andava, quello che viene riconosciuto a tutti come la grande rivoluzione urbana, la rivoluzione delle grandi città dell'Italia comunale e così via. Quest'anno invece abbiamo ritenuto opportuno con Alfonso Forgione, col quale lavoro felicemente ormai da anni, abbiamo pensato di appuntare la nostra attenzione su un tema nodale, non soltanto della vita medievale, ben inteso, che è quello del rapporto con l'acqua. Anche in questo caso il tema verrà affrontato da molteplici punti di vista, cioè partiremo da una descrizione dei mari del Mediterraneo con Andrea Ugenti, con Paolo Tocco, con una collega spagnola che alternerà degli interventi di tipo letterario tratto dai cantari medievali spagnoli, anche con un gruppo di chitarristi, per poi entrare più nel merito di alcuni problemi, le tecnologie dell'acqua, la rivoluzione nautica, l'utilizzo dell'acqua come forza motrice, insomma, fino ad arrivare poi ai temi più, ancora più evidenti, che sono quelli dell'acqua come risorsa, l'utilizzo dell'acqua come risorsa, le costruzioni di acquedotti. Il nostro amico Duccio Balestracci ci racconterà di questo straordinario intervento fatto a Siena di un chilometrico acquedotto che viene costruito nel corso della fine del 200 e poi avremo dei momenti privilegiati, momenti privilegiati che abbiamo ritenuto di, gli abbiamo dato un titolo, Orizzonti, dove praticamente il tema dell'acqua diventerà un po' eccentrico, ma sarà comunque un grande protagonista, quindi Luca Mola che racconterà la Venezia di Marco Polo, e sapete Luca Mola uno dei più grandi esperti internazionali di Marco Polo e ha scoperto alcuni dei documenti più, documenti inediti relativi non soltanto a Marco Polo ma anche alla comunità di veneziani che operavano in Oriente e anche in Cina, insomma, quindi fornisce una dimensione molto più ampia del fenomeno dei mercanti viaggiatori della Venezia trecentesca, e Fulvio delle donne che parlerà ancora una volta di un tema a lui caro al quale ha dedicato un libro molto bello, cioè la Crociata della Pace di Federico II, e poi il momento centrale di questi orizzonti sarà il dibattito sul Mediterraneo fra tre grandi esperti, insomma, i maestri della storia del Mediterraneo, cioè Giuseppe Ruiz Domenech, Franco Cardini e Luigi Mascilli Migliorini, che dibatteranno appunto sul tema del sogno di Ulisse, che è anche il titolo di uno degli ultimi libri di Domenech. È chiaro che però cercheremo anche di fornire elementi diversi, non soltanto lezioni ma anche momenti come quello con fabbri relativi alla geopolitica dell'acqua, quindi con uno sguardo alla contemporaneità. La Cruzee Pavan chiuderà con un affresco sulla Senna e Parigi e apriremo tutto con Laura Morante, che terrà un monologo sull'Aquila e l'acqua attraverso le cronache di Buccio da Ranallo. È un esperimento che abbiamo tentato e lei si è felicemente proposta e aprirà il nostro Festival Il 4 e mi sembra la maniera migliore di inaugurare un festival che ha un tema peculiare, che è peculiare di per sé per la ricchezza dei temi e dei contributi che ne verranno. Io ho visto nel programma che date ampio spazio anche ad avvenimenti quali le rievocazioni medievali. Ormai questo è diventato un elemento costante della rievocazione, non è più un addentellato o un ingrediente marginale, ma cerchiamo di far convivere insieme tutti questi linguaggi di trasmissione del Medioevo. Quindi attraverso esperti, rievocatori, sbandieratori, arcieri, si cercherà di dare un po' un tono che circonderà l'evento scientifico che chiaramente per l'Università, che è uno dei due sponsor insieme al Comune di questo evento, chiaramente per l'Università è peculiare lo sforzo di natura culturale, ma anche la rievocazione ha un suo specifico ruolo anche esso culturale. Beh, direi che non vi siete fatti mancare nulla. No, non ci siamo fatti mancare nulla e ormai cerchiamo di dare e consolidare la presenza all'interno delle ampie rassegne, delle ampie proposte culturali presentate all'Aquila nel periodo estivo. Insomma, l'idea di tutti, a partire dal Rettore, dal Sindaco, eccetera, è quella di dare una continuità a questa iniziativa. Siamo già arrivati a questo il secondo anno, speriamo di andare avanti in maniera regolare e soprattutto di incentivare la presenza, diciamo, di questa etichetta medievale anche nel corso del momento del 2026 dell'Aquila capitale della cultura. C'è la volontà di tutti di contribuire a questa iniziativa, anche spingendo l'acceleratore su convegni, attività culturali, riapertura di aree, ripristino della cinta murare, eccetera, eccetera, che chiaramente sono un alimento qualificante della proposta di una città che vuole reemergere e vuole proporsi come grande cantire culturale. Io non posso che invitare tutti ad affrettarsi perché le date di inizio si avvicinano e fra l'altro vorrei ricordare che possono trovare tutto il programma completo e con tutte le informazioni sul sito che è www.festivalcittadelmedioevo.it e quindi andandoselo a vedere possono già cominciare a prenotarsi alberghi, soggiorni. No, assolutamente, gli ingressi all'auditorium chiaramente sono aperti fino all'esaurimento dei posti e speriamo che ci sia un'affluenza. I giorni sono un po' particolari, sono quelli degli inizi di luglio, la prima settimana di luglio. Speriamo comunque, siccome l'Aquila si presenta molto più fresca di tante altre città in questo momento, che si possa, insomma, venite all'Aquila e insomma l'accoglienza sarà sicuramente di primo ordine. Bene, io posso fare altro che ringraziarti di aver accettato il nostro... No, Maurizio, grazie a te dell'occasione, insomma, grazie di tutto. E a tutti voi invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato finora. Grazie ancora. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti.